AVEVAMO UN GRANDE SOGNO Diventare l'evento più importante dedicato ai cavalli E ci siamo riusciti 4 giorni, 160.000 visitatori, 3.000 cavalli Spettacoli e intrattenimento Business Sport e competizioni Festeggia con noi 120 anni di fiera cavalli 5 giorni 400 anni di fiera cavalli hai In d甲 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501